Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo video. Oggi vediamo come installare Arch Linux alla vecchia maniera e in modo del tutto minimale. Probabilmente non c'era nemmeno bisogno di questo video, essendo che sul mio canale esiste già un video su parabola. E parabola non è nient'altro che una Arch Linux pura, praticamente, ma del tutto libera. Privata, cioè di tutti quei pacchetti non free software. Comunque, vediamo di installare Arch Linux. Qua ho preparato una macchina virtuale, mi accingo quindi ad installarla. E ci fermeremo nella prima parte del video all'installazione base di Arch Linux. Potreste tranquillamente chiudere il video alla fine di questa prima parte. Non vi farò vedere come installare un Window Manager o un Desktop Environment o qualunque altro pacchetto. Se siete interessati all'installazione di Openbox, andatevi a vedere il mio video su Openbox. Se siete interessati a BSP.wm, andatevi a vedere il mio video su BSP.wm. Quello che farò nella seconda parte, invece, è andare a clonare il mio repository GitHub e quindi ad installare i miei .files. Quindi andrò a replicare il mio sistema al 100%. Le mie configurazioni, i pacchetti installati sul mio sistema, in modo molto comodo, tramite uno script che ho creato. Potete usare anche voi questo script? Beh, che dire, se volete sì, ma a vostro rischio e pericolo, nel senso che è senza alcuna garanzia. E alla fine andreste a replicare un sistema che è stato cucito su misura per me stesso, certamente non per voi. Comunque, procediamo. La prima cosa da fare è andare a caricare il layout della tastiera. Lo facciamo con Load Keys e voi scriverete i T per la tastiera italiana. Il secondo passo è del tutto opzionale. Lo farò semplicemente per avere un font più grande, in modo che voi possiate vedere tranquillamente. Cosa ho sbagliato? Ah, già. Ok, adesso vedrete di sicuro. Andiamo a vedere se abbiamo a che fare con un sistema UEFI o con un sistema BIOS. Io ovviamente già conosco la risposta per quanto riguarda il mio sistema, ma andiamo a vedere. Lo facciamo con cat, slash, sys, slash, firmware, slash, fi, slash, fw, trattino basso, platform, trattino basso, sides. Se voi avete un output, un contenuto, allora si tratta di un sistema UEFI. Nel mio caso, come vedete, il file non esiste, quindi è un sistema BIOS. Cosa cambia per noi? Beh, io andrò semplicemente a creare tre partizioni. Voi potete tranquillamente seguire questo schema di partizionamento, ma dovete aggiungere una partizione di sistema UEFI, che io non creerò. Ok, adesso andiamo a vedere se abbiamo una connessione a internet. Lo facciamo con ping, sul sito di Arch Linux, va benissimo. Ok, sta pingando, quindi abbiamo la connessione. Io vi consiglio semplicemente di avviare il sistema live direttamente con il cavo ethernet collegato, quindi avere connessione ethernet. Altrimenti dovete vedere un po' voi come connettere tramite Wi-Fi. Ma l'ethernet è sicuramente più facile e funziona in modo del tutto automatico. Come vedete abbiamo già la connessione. Adesso andiamo a vedere con LSBLK che tipo di dischi abbiamo. Nel mio caso, a parte loop0 e SR0, abbiamo un SDA. Questo è il nome del mio disco. Quindi vado adesso a creare le partizioni con FDISC, FDISC e poi slash dev slash SDA. Voi metterete il nome del vostro disco. Ok, è un disco mai utilizzato, quindi vado a creare delle partizioni. Con N creo una nuova partizione, mi dice P per primaria, va benissimo la partizione primaria, va benissimo il numero 1, va benissimo il primo settore. Come secondo settore possiamo specificare la grandezza della prima partizione. Quindi vado con più e la grandezza della partizione. Diciamo che la voglio fare di 10 giga, dai. Quindi più 10 G maiuscolo. Ok, vabbè, questo non dovrebbe spuntare. In realtà il disco l'avevo sì utilizzato. Vabbè, non fa nulla. Quindi se controlliamo con P abbiamo adesso una prima partizione SDA1 di 10 giga. Quindi con N creo la seconda partizione, sempre primaria. Il numero 2 va benissimo, il primo settore va benissimo. E diciamo che voglio fare adesso una partizione di home. Non è assolutamente obbligatorio creare una partizione di home separata, ma a me piace farlo. Quindi creo una partizione di home e dedico a questa partizione tutto lo spazio ad esclusione degli ultimi 4 giga. Quindi scrivo meno 4 G maiuscolo. Ok, abbiamo creato pure questa. Creo un'ultima partizione di swap. Primaria va benissimo, numero 3 va benissimo, primo settore va benissimo, coma ultimo settore va benissimo. E andiamo a vedere con P cosa abbiamo creato. Ok, abbiamo SDA1. Questa sarà la partizione di root di 10 giga, SDA2 di 8 giga, questa sarà la mia home, piccola ma va bene. SDA3 di 4 giga e questa è l'area di swap. Dobbiamo cambiare il tipo della partizione SDA3. Quindi vado con T per cambiare il tipo. Partizione numero 3. E adesso dobbiamo inserire il codice. Per l'area di swap il codice è 82. Ok, stampiamo di nuovo con P. Adesso è tutto a posto. Vedete che ha cambiato il tipo della partizione SDA3. Apportiamo le modifiche con W. Ok, ha scritto le modifiche sul disco ed è uscito. Adesso dobbiamo formattare le partizioni. Quindi vado con mkfs.ext4 Ext4 è il file system più comunemente utilizzato su Linux. Slash dev slash SDA1. Ok, e abbiamo formattato la partizione numero 1, quella che utilizzerò come root. Poi mkfs.ext4 slash dev slash SDA2. Quindi stiamo formattando la mia partizione di home. E poi vado con mkswap slash dev slash SDA3. E abbiamo formattato anche l'area di swap. A questo punto possiamo anche abilitare lo swap con swap on slash dev slash SDA3. e montiamo la partizione di root. Quindi slash dev slash SDA1 su mnt. Creiamo su mnt la directory home. Quindi mnt home. Ok, e montiamo slash dev slash SDA2 su mnt home. Fatto. Potremmo anche controllare se il mirror del cui andiamo a scaricare è quello più veloce. Facciamolo con nano, dai. Utilizziamo nano per editare il file slash etc slash pacman.d slash mirror list. Nel mio caso sembrerebbe che i mirror in cima sono già quelli più vicini, quindi più veloci. E comunque in ogni caso l'installazione si può portare al termine ugualmente. Adesso quindi andiamo a scaricare i pacchetti, ad installare il sistema base. Facciamo con packstrap trattino k maiuscola su slash mnt e andiamo ad installare il sistema base appunto base linux andiamo ad installare il kernel linux poi linux firmware poi cos'altro se avete wireless IW e anche VPA trattino basso supplicant poi dobbiamo installare un bootloader io vado con grab installiamo anche sudo che ci farà comodo e installiamo magari il network manager che ci farà comodo network manager manager un'unica parola ok quindi metto il video in pausa e ci rivedremo quando il sistema ha finito di scaricare ed installare i pacchetti del sistema base ok ha finito di installare il sistema base adesso andiamo a generare il file fstab che monterà in automatico le partizioni all'abbio del sistema quindi lo facciamo con gen fstab poi scriviamo trattino u maiuscola la u sta per i codici univoci uuid che sono meglio del nome sda1 sda2 sda3 quindi gen fstab trattino u maiuscola della directory e mnnt e ridirizziamo l'output su slash mnt slash etc slash fstab possiamo anche controllare se il tutto sembra ragionevole si lasciatemi spostare il webcam ok abbiamo l'sda1 con il suo bel codice uuid questa è la partizione di root poi abbiamo la partizione di home sembrerebbe tutto a posto quindi procediamo adesso possiamo effettuare il chroot sul nuovo sistema quindi entriamo sul nostro nuovo sistema e andiamo ad impostare il fuso orario lo facciamo con ln trattino sf slash usr slash share slash zone info slash europa slash roma per questo fuso orario ovviamente e lo linkiamo su slash etc slash local time fatto adesso abbiamo il nostro fuso orario andiamo ad impostare l'orologio hardware quindi hwclock slash slash sys to hc fatto andiamo ad editare il file ce l'ho vim no purtroppo no vabbè lo installerò successivamente quindi andiamo ad editare con nano slash etc slash locale punto gen anche nano non abbiamo quindi con pack strap avrei dovuto installare anche nano quale editor abbiamo? non lo so facciamo una cosa usciamo con exit dall'ambiente ch root e ritorniamo al nostro comando pack strap avevamo installato tutto questo adesso dobbiamo solamente installare nano è un editore di testo molto semplice io installerò anche vim un altro editore di testo e già che ci siamo dai installo curl che non so se si è preinstallato a questo punto wget mi fa anche comodo e direi che per il momento può bastare quindi aspettiamo che scarica ed installa metto pausa ok rieffettuiamo il ch root a questo punto avevamo già generato il file fstab andiamo ad editare il file slash etc slash locale punto gen io lo sto editando con vim poi voi potete tranquillamente utilizzare nano ok andiamo a cercare le righe riguardanti l'italiano io scelgo questo cancello il commento il cancelletto e quindi rimane it trattino basso it maiuscolo punto utf slash 8 va bene adesso impartiamo il comando locale trattino gen e verrà generata la lingua italiana dopo di che andiamo ad editare il file slash etc slash locale punto conf e qua scriviamo lang tutto maiuscolo uguale it trattino basso it punto utf trattino 8 insomma quello che avevamo scelto precedentemente adesso dobbiamo anche impostare il layout della tastiera lo facciamo editando il file slash etc slash vconsole punto conf qua scriviamo keymap tutto maiuscolo uguale it per la tastiera italiana fatto adesso editiamo il file etc hostname e qua scriveremo semplicemente il nome della macchina che vogliamo scegliere io sceglierò non lo so arch virtuale va bene dopo di che dopo di che scegliamo una password con pass wd ripetiamo la password fatto dobbiamo ancora installare grab come bootloader ho scelto grab quindi vado con grab trattino install slash dev slash sda nel mio caso nel mio caso sto installando grab sul master boot record del disco nel vostro caso la situazione potrebbe essere diversa va bene quindi sto installando grab poi dobbiamo ancora generare il file del menu di grab altrimenti al riavvio non ci troviamo le voci di grab aspettiamo ancora un attimo ok adesso vado con grab trattino mkconfig trattino o su slash boot slash grab slash grab punto cfg ok mi sta generando le voci ha finito benissimo avevo installato il network manager quindi lo abilitiamo al boot del sistema lo facciamo con systemctl enable network network manager tutto unito mi sembra con n maiuscola e m maiuscola si credo sia esatto ok possiamo anche vedere se ci sono aggiornamenti non credo comunque lo facciamo con pacman trattino s maiuscola y u no non ci sono aggiornamenti direi di creare già adesso il il nostro utente il nostro semplice utente perché al momento esiste soltanto l'utente root quindi lo facciamo con add user no user add trattino m minuscola per creare la directory home a questo utente poi trattino g maiuscola per dare l'appartenenza a questo utente al gruppo will quindi user add trattino m minuscola trattino g maiuscola will e poi il nome dell'utente lo chiamerò luigi diamo una password a luigi quindi pass w di luigi inseriamo la password ripetiamola fatto direi vediamo se posso editare con visudo si abbiamo visudo perché abbiamo installato sudo con visudo possiamo editare questo file e quindi andiamo sulla riga dove c'è will ecco vedete perché ho dato l'appartenenza al gruppo will non è l'unica ragione ma va bene quindi ho tolto il commento adesso potremmo con il nostro utente luigi impartire comandi con sudo e quindi acquisire i poteri di root i privilegi elevati ok credo che abbiamo finito si possiamo uscire dall'ambiente chroot exit dopodichè andiamo a smontare con umount trattino r maiuscola tutto quello che avevamo su mnt in un colpo solo ho smontato la partizione sda1 e la partizione sda2 andiamo a fare swap off della partizione di swap slash dev slash sda3 ok possiamo riavviare il sistema quindi reboot metto in pausa e ci vediamo dopo come vedete ci troviamo davanti alla schermata del bootloader di grab quindi abbiamo arch linux la nostra bella arch linux fresca fresca di installazione aspettiamo ancora un po' come utente già avevamo creato un utente semplice quindi inserisco luigi la sua password fatto e abbiamo anche sudo a disposizione adesso però la prima parte del video è finita poi voi potete chiudere il video anche qua quello che segue è lo script di questa installazione creato da me per me stesso se volete utilizzarlo come detto a vostro rischio e pericolo non mi assumo alcuna non vi do alcuna garanzia si tratta di uno script di un risultato cucito a misura per me stesso non è detto che a voi vada bene allora andiamo con www.get htps 2 punti slash slash ra w punto github user content punto com slash clarintux slash master slash punto no clarintux slash dot files slash master slash punto local slash bin slash install trattino basso clarintux os punto sh quindi ha scaricato lo script lo rendiamo eseguibile con chmod più x e poi il nome del file e lo eseghiamo ok benvenuto nello script per installare clarintux os si tratta di uno script post installazione per distribuzioni arch based che copia i miei dot files ed installa i pacchetti presenti sul mio sistema non sono andato molto per il sottile troverete praticamente tutti i pacchetti installati tutti i pacchetti che ho io comunque poi c'è il warning quello che vi ho detto io vuoi proseguire si installo curl e git ora curl è sicuramente già installato git verrà scaricato ed installato metto pausa ci vediamo dopo ok scaricato ora verrà effettuato un backup dei dot files dei file di configurazioni già preesistenti quindi facciamogli fare questo backup ok fatto clono il repository quindi gli facciamo clonare il repository ok come vedete ci sono dei dot files preesistenti che adesso verranno sovrascritti ma abbiamo un backup quindi procediamo ok dot files installati con successo ora installo i pacchetti di clarintux os ok premo invio e metto pausa i pacchetti di clarintux os sono stati installati adesso è il turno degli sfondi quindi verranno clonati anche verrà clonato anche il repository con i miei sfondi con i wallpapers ok diamogli un po' di tempo magari metto in pausa e ci vediamo dopo ed ecco che ha clonato anche gli sfondi adesso ci chiede di inserire il codice del layout della tastiera ad esempio it per italiano us per l'inglese d e per il tedesco eccetera quindi voi metterete it dopodichè inserisci il tasto modificatore ad esempio w per il tasto super per il tasto windows oppure c per ctrl e a per alt c'è la possibilità di utilizzare uno di questi tre tasti voi potete utilizzare il tasto super io non lo faccio perché altrimenti le combinazioni di tasti mi andrebbero in conflitto con le combinazioni dei tasti presenti sul computer vero e proprio sulla macchina host quindi sceglierò non lo so il tasto alt voi potete tranquillamente lasciare w quindi il tasto super ok vuoi usare zsh come shell predefinita per il tuo utente io si utilizzo zsh e non bash un po' la password shell modificata adesso scegli il window manager o compositor wayland predefinito abbiamo hyperland abbiamo bspwm su xorg ovviamente e openbox sempre su xorg vado con hyperland poi magari ve lo farò vedere tutti e tre ho finito riavvia e il gioco è fatto non dimenticare di installare il tor browser e torsox perchè faccio un uso intensivo della rete tor e dai un'occhiata magari a questi file di configurazione la indicati perchè probabilmente dovrai cambiare qualche cosa io ho impostato il tutto per me non certo per qualcun altro a questo punto piuttosto che riavviare io faccio un logout esco e mi logo di nuovo come utente luigi quindi aspettiamo e vedete abbiamo hyperland si sono aperte molte finestre in automatico perchè così l'ho impostato ho impostato la cosa e per farlo andare bene su macchina virtuale dovrei sicuramente cambiare qualcosa perchè hyperland non si comporta benissimo su macchina virtuale comunque eccoci qua con la mia combinazione di tassi ho aperto un terminale questo è Alacriti lo chiudo vabbè vi troverete quindi hyperland con una barra in alto questa è waybar 10 workspace in automatico si aprono delle cose ad esempio neomat ma lo dovete configurare voi con la vostra casella email newsbot eccetera eccetera va bene questo è hyperland adesso io direi di di uscire di nuovo e facciamo una cosa cambiamo il window manager per farlo c'è un altro script script change wm e vi richiederà scegli il window manager scegliamo open box numero 3 va bene a questo punto potrei farlo partire direttamente con start x ma facciamo che mi faccio il log out e mi loggo di nuovo ok è partito open box attualmente non c'è alcuno sfondo ma glielo possiamo subito far trovare apriamo nitrogen aggiungiamo la cartella degli sfondi che si trova su immagini e poi wallpapers ok prendiamo il primo per sbrigarci applichiamo ok va bene su macchina virtuale funziona un po' maluccio magari devo magari ho sbagliato a mettere i driver della macchina virtuale comunque sia abbiamo open box stesse combinazioni di tasti più o meno e come vedete questa è tint 2 configurata per open box se andate sul file leggimi vi ho inserito un file leggimi benvenuti in clarintux os leggete tutto e poi vedrete che ci sono le combinazioni dei tasti quindi per imparare le combinazioni dei tasti andate su questo file ok cosa rimane bspwm quindi facciamo una cosa esco di nuovo questa volta da qua exit esci ok ah no scusate dovevo cambiare va bene facciamo una cosa di nuovo ci logghiamo apriamo un terminale ok change vm andiamo sul 2 e adesso abbiamo bspwm ve lo faccio vedere brevemente comunque per bspwm e open box ho già due video sul mio canale e di recente ho fatto un video dove vi ho comunicato che sono passato a hyperland ok questo è bspwm anche lui con la sua barra tint 2 però configurata in modo leggermente diverso e quindi niente abbiamo le stesse cose se volete vedere qual è il risultato con bspwm basta vedere il video che ho già fatto su questo window manager benissimo spero il video vi sia piaciuto io vi saluto ciao da clarintux grazie a tutti